Come cabbo è possibile? Siamo riusciti a non vincere nemmeno questa, nemmeno questa, nemmeno questa, sono quattro partite che non vinci, oggi hai pareggiato 2 a 2 col Sassuolo, la scorsa partita hai perso 2 a 0 con Napoli, la partita prima 2 a 0 col Parma, cioè non vinci dalla partita Roma-Genoa 1 a 0. Ma allora, a parte che oggi hai fatto veramente schifo, hai fatto schifo, siamo penosi, l'unico che si salva è Spinazzola, Spinazzola e basta, e Mancini che ci mette grinta, ma gli altri, allora Cristante non sa marcare, Bruno Perez ha trovato quel gol ma ha fatto una partita penosa, meno male che ha trovato quel gol perché io non so più che dire, Cioè è veramente inguardabile, non so come fa style in Serie A, Paolo Lopez sbaglia i tempi di uscita, poi il gol ok non era colpa sua, ma sbaglia i tempi di uscita, poi, allora, tu non hai una punta perché, parliamoci chiaro, Majoral oltre che ok fa qualche giocata, ma non segna manco a porta vota, non parliamo di Dzeko, entra svogliato, svogliato, ma chi cazzo? Cioè, io non capisco proprio sta squadra, poi prendi i gol agli ultimi minuti e non hai un minimo di reazione, oltre a Spinazzola che dà sempre l'anima, oltre a questi giocatori qui, non hai un minimo di reazione, ti sei fatto pareggiare come un pollo, e ora hai finito la Corsa Champions, ma hai finito la Corsa Champions, l'Europa League non la vuoi vincere. E ti sei fatto superare pure dalla Lazio, che, parliamoci chiaro, la Lazio, cioè, sta facendo un campionato penoso come la Roma, perché l'anno scorso la Lazio, tipo, a questi tempi era prima, cioè, ora, no, non era prima, ma era tipo terza. Quindi io non so più veramente che dire, cioè, ti sei fatto superare da tutte, sei settima, ora devi stare attento addirittura a non farti superare da questi, o dal Sassuolo. Oggi, parliamoci chiaro, c'erano assenti nella Roma, ma anche nel Sassuolo, pesanti assenze di Locatelli, di Caputo, di... Cioè, ma, vabbè, facciamo ridere, facciamo veramente ridere. Poi, dopo usciranno molti altri postpartiti, raga, preparatevi, iscrivetevi, lasciate like, campanella. Non so più che dire, del Sassuolo, comunque, ha segnato, cioè, per la prima volta con la fascia da Capitano, un 2000, cioè, Raspadori, che aveva segnato alla Lazio, l'anno detto, e alla Roma, appunto, oggi. Mi sa, gli unici due gol in campionato, se non sbaglio, di Raspadori. E ti ha segnato pure, tra ore, cioè, io, va veramente, non so più che dire. Addio Champions, cerchiamone della lotta Europa League. Bella a tutti, ragazzi, concludo quel video, like, iscrivetevi alla campanella, e, soprattutto, campanella è post-community, perché dopo usciranno molti altri postpartiti, quindi, se siete laziali, dopo esce quello della Lazio, siete del Napoli, esce quello del Napoli. Ok, attivate la campanella, non ci vediamo un po' sui, lo ciao.